Le chiedevo, nello staff, quindi in quello che lei vuole rapportare a Napoli, se vede o se è ancora possibile una figura come Amsic, se ci ha pensato, se è ancora possibile? Amsic, io volevo fortemente che venisse, solamente lui gestisce un'accademy abbastanza importante, era quando ha smesso di giocare la fase in mano lui e in così poco tempo non è riuscito a organizzarsi, però mai dire mai perché Amsic insieme a Maradona sono i giocatori più amati, credo, qui a Napoli, per cui, oltretutto è un ragazzo fantastico, collabora con me nella nazionale slovacca, sono molto felice della sua collaborazione perché gli ho dato molto spazio in campo e è veramente bravo. E molto probabilmente lo vedremo da qualche parte domani. Allora andiamo a chiudere. Sì, salve, benvenuto. Grazie.